Siamo qui con il dottor Salvatore Sanmarco che è il direttore della PTA dell'Enrico Albanese. Intanto cominciamo a chiedere, dottore, cos'è il PTA? Perché credo che la maggior parte delle persone, me compresa, non ne sappiano proprio molto. Il PTA è l'acronimo di Presidio Territoriale di Assistenza, è una struttura che riunisce in sé tutta la parte sia di assistenza al paziente, quindi poliambulatori, che la parte amministrativa per il cambio medico, la prescrizione di presidi. L'idea è di concentrare in un unico ambiente tutti i servizi sanitari erogabili al cittadino e soprattutto creare un punto di accesso uniforme, unico, in cui si può formulare la domanda di assistenza e essere indirizzati nel giusto servizio. Essenzialmente è questa la funzione del PTA. Quindi possiamo dire che ci sono degli uffici, c'è anche dell'adeggenza? Il PTA nasce come prestazioni ambulatoriali, quindi nello specifico nel PTA albanese ci sono alcune sezioni di semiresidenzialità per alcuni pazienti, ma la missione del PTA è quella di fornire assistenza sotto forma di gestione integrata, cioè nel senso un modo diverso di gestire la malattia in maniera attiva. Siamo noi che attraverso i medici di medicina generale invitiamo gli utenti, quindi gli ammalati, all'interno del PTA e negli ambulatori a gestione integrata. Si realizza l'interscambio di cognizioni, si fa diagnosi avanzata sui pazienti dei medici di medicina generale e soprattutto in tre ambiti fondamentali che sono quelli che rappresentano il maggiore carico di patologia, quindi le malattie, il diabete, le malattie cardiovascolari e le broncopatie. Per ognuno di questi tre elementi, item, ci sono dei percorsi integrati dove il paziente viene preso in cura e gli vengono programmati i controlli successivi che farà tutti in unica giornata, per evitare l'avanti e indietro tra richiesta di visita e fare la visita dilazionata del tempo. All'atto pratico, facciamolo sapere ai nostri ascoltatori, il paziente come viene da voi? Viene mandato dal medico, fa una richiesta? Ci spieghi proprio cosa deve fare il paziente che desidera venire alla PTA? Il paziente entra al PTA in tre modi essenzialmente, quello spontaneo che chiaramente è preceduto da una richiesta del medico curante o si viene anche a chiedere informazioni per sapere qual è il percorso esatto da seguire, dopo gli ambulatori programmati sulle tre patologie importanti e dopo c'è un'altra funzione importante che è appunto il titolo del nostro congresso, l'integrazione tra ospedale e territorio attraverso le cosiddette dimissioni facilitate, i pazienti vengono segnalati in dimissione, sono segnalati al PTA e quindi vengono immediatamente presi in carico subito dopo la dimissione dal PTA che determina, cioè realizza il piano assistenziale e viene inserito nel percorso di cura. Questo è il nuovo modo di concepire, cioè la sanità che va verso le persone e gli crea il percorso essenzialmente. All'atto pratico ci sono già parecchi pazienti che vengono oppure è un servizio che deve essere un po' promosso, cosa che facciamo noi con molto piacere in questo momento? Sì, l'utenza spontanea, io ho appena fatto il resoconto dell'anno scorso, abbiamo fatto circa 120.000 visite di utenti spontanee e dopo abbiamo circa 3.000 pazienti in gestione integrata, soprattutto di diabete scompenso. Quindi già cominciano a diventare numeri consistenti, importanti infatti.